Il franamento di un intero fianco di monte ha funestato la regione del lago di Loen, uno dei principali centri turistici della Norvegia, travolgendo alcuni villaggi e causando un'ottantina di vittime. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS In seguito allo spostamento provocato dalla massa di milioni di metri cubi di terra e stassi precipitati, il fiume ha cambiato letto.